Ciao a tutti, allora oggi prepariamo un lavoro un po' più sulle braccia, quindi preparatevi le due bottigliette d'acqua da mezzo litro, io non ce ne ho le bottigliette d'acqua, quindi ho preparato due sacchetti di farina da mezzo chilo, è uguale, più o meno il peso è lo stesso, quindi procurate il mezzo chilo e il mezzo chilo per i più allenati anche un chilo, va bene, quindi anche la bottiglia da un litro, che io non ho, quindi farò con questi. E riscaldiamo bene le braccia per poter fare un lavoro di tonificazione su delle ore, quindi facciamo sempre prima il riscaldamento tutto, quindi mi raccomando andate nella cartella riscaldamento, riscaldatevi bene, testa, braccia, respirazione, eccetera, eccetera. Nel riscaldamento andiamo giù, facciamo dei cerchietti con i nostri pesi. Apriamo sempre di più i cerchi, sempre più grandi, fino ad arrivare a fare i cerchi laterali, testa bassa. Un minuto, giù le braccia e srotolo la colonna. Ripeto, vado giù e continuo a fare i cerchi dal lato inverso, quindi all'interno, sempre più grandi, fino ad arrivare ad arrivare ad alzare le braccia lateralmente, continuo a fare i cerchi laterali e in avanti. Sempre per un minuto. Giù le braccia e torno a sottolo. Chiudiamo le gambe, inspiro e fuori aria sul ginocchio e il braccio opposto, raggiunge con il peso la spalla. Inspiro e fuori aria. Un minuto anche di questo esercizio, dopodiché facciamo la stessa cosa laterale. Spalle e fianchi paralleli, punta del piede di fronte, braccio opposto alla rumba. Non superiamo mai l'articolazione della spalla, restiamo sempre in un punto dove non vado fuori l'articolazione e poi divaro con le gambe all'altezza delle ampie. Inspiro e fuori aria. Faccio i miei 10 voltanti tenendo i pesi attaccati alle cosce. Vino giù, arrivo a portare i pesi con le gambe tese davanti alla punta dei piedi, inspiro, fletto le ginocchia e fuori aria. Attacco di nuovo i pesi subito dopo al tibiale, sotto le ginocchia e ritorno su lentamente srotolando la colonna. Inspiro, fuori aria, pesi vicino alle gambe. Vado a portare i pesi sulla punta dei piedi. Inspiro, fuori aria e riattacco i pesi sotto il ginocchio e ritorno su lentamente. Lo facciamo 10 volte e andiamo giù. Mi raccomando, 10 volte. Quindi stoppate il video e poi andate avanti. Fate i vostri 10 voltanti e poi andate avanti. Allora, pesi in avanti con le braccia semifless. Non chiese, semifless. Inspiro, spalle spinte verso il basso e fuori aria vado in avanti. Inspiro, torno e fuori aria. Un minuto, giù i pesi, recupero. Riprendiamo i pesi, questa volta gomiti all'altezza delle spalle. Inspiro e fuori aria. Spingo i pesi al centro della testa e sollevo una gamba. Inspiro e fuori aria. Ovviamente dobbiamo cercare di non fare questo quando saliamo con la gamba. Quindi ispiro e fuori aria. Un minuto, anche di questo esercizio, poso i pesi e recupero. Andiamo a metterci in posizione strona. Fronte a terra, sedere stretto. Addome con trappo. Braccia divaricate, fronte al tappetino. Tese le mani, inspiro e fuori aria. Vengo su e torno. Ispiro, scendo e fuori aria. Si sollevano leggermente anche le gambe. Un minuto di questo esercizio e recupero portando i glutei sui talloni. Torno. Altro esercizio, posizione prona. Pesi alle mani, lungo i fianchi. Inspiro, fuori aria. Questa volta salgo sulla potele spalle. Porto i pesi al centro della testa e torno. Inspiro. Sedere stretto, agame con tratto e fuori aria. Inspiro, scendo e fuori aria. Un minuto di questo esercizio, poso i pesi e recupero. Ci mettiamo in quadrupedia. Portiamo il pesetto dietro al ginocchio. Stringo forte il colpaccio tra il colpaccio e il bicicletta e il femorale. Porto sulla gamba e molleggio un minuto il tallone verso il soffitto. Stessa cosa con l'altra gamba. Con le polchine, magari più semplici, questa è di plastica, non di scivola. Stessa cosa con l'altra gamba. Stringo. Molleggio un minuto. Mi raccomando, senza inarcare la schiena e senza scorciare i fianchi. Stringo. Torno. E recuperiamo. Durante il recupero, strecciamoci un po' di braccia. Cammino da un lato e tiro. Tenendo abbandonata la testa e la macchia. Stessa cosa. Cammino dall'altro lato e tiro. Ci mettiamo in posizione subina. Con i nostri pesetti. Braccia sempre semiflessa. Inspiro. E foriare il nostro roll down con i pesi. Andiamo a curve sulla gambe. In questo esercizio potete contare anche due minuti, eh? Due minuti di rontano. Poso i pesi. E recupero. Prendo di nuovo i pesi alla mano. Stendo le gambe al soffitto. Braccia tese. Inspiro. E fuori aria. Vado a portare i pesi verso la punta dei piedi. Inspiro. E fuori aria. Un minuto di questo esercizio. Cinocchia, aspetto. E recupero. Vado giù con le gambe. Tengo le gambe piegate. Le braccia semiflessa in un ovale al soffitto. Inspiro. E fuori aria. Spingo il sedere verso l'alto. E divado con le braccia. Inspiro. 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 Un minuto. Cinocchia al petto. E recupero. Ritorniamo. Giù con le braccia di gambe. Gomiti stretti. Pesi al petto. Inspiro. Fuori aria. Porto su. Il sedere rotolandolo lentamente. Come già sapete. Da qua. Inspiro. E fuori aria. Stendo una gamba. Contemporaneamente. Stendo le braccia. Inspiro. E fuori aria. Il sedere non scende mai. Poso. Srotolo la colonna. Ma ovviamente anche di questo esercizio. Un minuto. Mettetevi il cronometro. Lavorate bene. Altrimenti è inutile che vi fate. Recuperiamo. Facciamo l'ultimo esercizio. Cambio a tavolino. Inspiro. 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 Fuori aria. Vado. Stendo le braccia al soffitto. E tengo le spade e la testa sollevate. Da qua. Inspiro. E fuori aria. Vado con il peso fuori e l'altro verso la gamba. Inspiro. E fuori aria. Inspiro. E fuori aria. Anche di questo esercizio. Un minuto e poi recupero. Ci giriamo da un lato. Ci mettiamo seduti. Scarichiamo un po' la bronna. Tenendo piede contro piede. Facciamo cadere le gambe da un lato. Le spalle sono dritte. Inspiro. E fuori aria dall'altro lato. Inspiro. E fuori aria. Mi raccomando. È importante che alla fine di questa lezione ci siano straccine le braccia. Dietro. Sempre per 30 secondi. Ogni posizione mantenete la 30 secondi. Se qualche esercizio non vi è chiaro sulle ripetizioni, i secondi o l'esecuzione. Scrivetemi privatamente. E io vi faccio un video bregato dove ve lo spiego specificamente. Dietro. Quindi defaricate bene le braccia. Per oggi la tonificazione al lato superiore. Abbiamo i nostri belli esercizi anche per oggi. Mi raccomando. Non state sul piano tutto il giorno. Ma allenatevi. E spero che voi facciate un buon lavoro tutti i giorni. Grazie a tutti.